E' inutile esagerare col carico di lavoro e non recuperare, bisogna dare al proprio corpo il tempo di metabolizzare ogni singolo allenamento. Io per esempio tra un allenamento e l'altro faccio una pausa come un suonellino per recuperare e ripartire. Voi potreste fare anche una giornata di recupero prima di riniziare con gli allenamenti, vi assicuro funziona.